Buongiorno, signori! Buongiorno! Sei nuovo, tu? Non ti ho mai visto. Eh sì? Per me è bestecca e patate. E per me è stufato e patate. Io invece prendo le aringhe e le patate fritte. Siamo seri, signori. Per favore. Quest'oggi io vi propongo una mousse di zucca gialla con domino di castagne candite, dei piccoli ravioli di pomodoro su una foglia di lattuga. Ci sono le patate fritte sulla foglia? No, no, no. È accompagnata da barbabietola rossa alla paprika in una zuppa di crescione con aromi di spuma di carota e una linea di aceto di sidro di Asenco. Chi è questo finocchio? Sparisci, tu e il tuo aceto di sidro!